Per Papa Francesco, vesti sacre pensate all'Aquila dall'Ufficio Diocesano, sono pronti infatti i paramenti liturgici che Papa Francesco indosserà all'Aquila domenica 28 agosto in occasione della visita pastorale e dell'apertura della Porta Santa di Colle Maggio. Le vesti, commissionate dall'Ufficio Liturgico Diocesano diretto da Don Martino Gaida con la consulenza di Don Daniele Pintonna, docente di liturgia e sacramentaria dell'Istituto di Scienze Religiosi del Capoluogo, saranno indossate dal Papa e dai concelebranti durante la liturgia eucaristica per l'apertura della Porta Santa che avvierà così l'indulgenza concessa da Papa Celestino V nel 1294. Linee progettuali semplici che fondono nella vera bellezza chiara e leggibile le vesti liturgiche vedono alternarsi nei clavi le geometriche croce riportate nella facciata della Basilica. Vengono riprodotte quindi figure di intenso significato teologico ricorrendo ad un disegno nitido e alla sobrietà cromatica dei tessuti. Tutto questo per armonizzare i paramenti con il linguaggio e i segni della liturgia. La progettazione degli abiti è stata curata da Filippo Sorcinelli mentre la realizzazione dell'Atelier Labs. I paramenti rimarranno all'Arcidiocesi, saranno usati soprattutto per le celebrazioni in Colle Maggio e in modo particolare per la perdonanza. Riprendono, sono molto semplici e riprendono un po' gli stilemi della facciata e gli altri simboli che sono presenti nella nostra città. La diocesi è molto impegnata e in questi giorni i arredi sacri avranno ovviamente il bianco dominante, anche la poltrona del Papa è pronta con i tessuti di lilli tappezzerie. Ci saranno ovviamente altre sedute per tutti i concelebranti che prenderanno parte alle celebrazioni liturgiche, grazie alla collaborazione di Giampiero Passacantando per quel che riguarda i tessuti. Insomma, l'Aquila è importante anche per quanto riguarda la realizzazione di tutto ciò, con le basi che sono state create proprio in città per accogliere il Santo Padre. Anche gli arredi esteriori sono stati pensati all'Aquila perché la nostra città possa esprimere anche attraverso i segni la bellezza dei luoghi e i simboli che caratterizzano la nostra celebrazione della perdonanza. Grazie. Grazie.